chiamo antonio se c'è ok allora iniziamo il workshop non cambieremo mai le cose combattendo la realtà esistente perché penso che per cambiare qualcosa veramente bisogna che venga un asteroide e faccia piazza pulita di questi imbecilli comunque direi che nel mondo della salute dovremmo anche costruire un modello nuovo perché se voi pensate a quante cose magari possono sembrare importanti nello stesso tempo poi vengono combattute e derise per anni finché poi alla fine eccomi spesso queste ciao eccoci qua spesso queste situazioni diventano diventano sicuramente poi nel sulla bocca di tutti prima che essere essere combattute poi vengono anche accettate dal mondo scientifico nel mondo della salute della prevenzione penso che si faccia ben poco al di là di trovare problemi o malattie dal punto di vista della prevenzione lo vediamo in questi giorni basti pensare a quello che sta succedendo con l'inquinamento no sicuramente tutto è il contrario soprattutto del fatto che molto spesso cerchiamo di combattere il il l'inquinamento con le targhe alterne con delle limitazioni abbastanza dei dei rimedi abbastanza somma discutibili oggi abbiamo una responsabilità quello di chiederci se ciò che stiamo facendo ci sta avvicinando al luogo in cui vogliamo essere se parliamo di salute nei confronti delle future generazioni penso che questo sia molto preoccupante ecco perché è nata la tecnologia s drive perché da moltissimi anni si sente parlare di una nutrizione personalizzata ma poi spesso non si riesce a capire effettivamente i bisogni specifici di ogni persona voi pensate a quante volte no abbiamo pensato abbiamo detto a se c'è questo problema perché sei carente di vitamina c piuttosto di vitamina d oppure tantissime altre altre situazioni o altre carenze basti pensare alla vitamina d ma chi l'ha detto che gli manca la vitamina d perché magari la scienza ha dimostrato o ha provato questo magari quella persona è carente di vitamina c o vitamina b eccetera eccetera la storia di e della sewell bang nasce oltre sedici anzi ormai diciotto diciannove anni fa perché sono stati adottati più di trenta bambini dal presidente yan che aveva in mano questa tecnologia ma non aveva ancora scoperto le potenzialità e lui iniziò a a mappare pensate i capelli di questi bambini e evidenziare che effettivamente i dati potevano essere molto interessanti a parte che venivano elaborati e ci ponevano giorni e giorni venivano letti via email poi in excel adesso come sapete la tecnologia si permette di essere con un clic dall'altra parte del mondo e infatti nel 2001 nasce questa tecnologia per aiutare questi bambini nel 2009 viene messa a punto nel 2014 viene lanciata sul mercato e poi la storia è che nel 2017 ho avuto la fortuna di conoscerlo al congresso mondiale di medicina rigenerativa anti aging a città del messico e nel 2018 insomma hanno messo a punto tantissimi altri report che poi vi presenterò la cosa interessante di questo di questa tecnologia è la capacità proprio che che ha di personalizzare fare una una sorta di screening sui bisogni specifici che ci sono a livello cellulare in effetti no no sono 63 persone no no sono in connessione e questo ci 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 permette di poter offrire un servizio veramente unico qui vedete tutte le certificazioni poi naturalmente se siete interessati ve le faremo avere tra queste certificazioni anche le certificazioni della fda e sulla sulla grande utilità di questo device di migliorare la qualità della vita delle persone è in 70 paesi nel mondo 12 lingue molte cliniche medici ma ormai e tante lingue che possono essere a disposizione di che magari più fare con persone che parlano un altro addirittura abbiamo preso proprio nel 2021 un premio di tecnologia avanzata anche in international award start up in smizzera amo dire nel mondo della salute che la vita è urgente il dna nel tuo destino quindi noi sappiamo è vero la mente è più forte dei geni questo ci insegna la psiconeuroendocrinologia però pochissimo si fa per conoscere i rischi congeniti della persona oppure la costituzione della nascita come si può insegnare no il questo il mondo della prevenzione quando una volta si faceva fisiopatologia o fisiologia il una delle cose più interessanti che possiamo fare è prendere in considerazione e consapevolezza del fatto che in questo mondo due cellule che si incontrano queste due cellule quando si incontrano scaricano l'app della voi pensate quanto sia importante capire che app si scarica in quel momento al momento del concepimento tutte le memorie di quello che hanno fatto i nostri genitori e non solo quando parliamo di epigenetica l'epigenetica e l'eredità di di generazione allora oggi abbiamo una responsabilità importante che parte dal fatto che siamo cento milia miliardi di cellule dal fatto che abbiamo la possibilità di capire che le cellule possono assolutamente avere un senso se noi iniziamo da mettere a posto la combinazione di ossigeno idrogeno nelle nostre cellule capire quanto nel mondo della salute per piacere a antonio stacca il tuo microfono nel mondo della salute abbiamo bisogno di lavorare sulla disfunzione mitocondriale per esempio sulla produzione di energia tp basata su quello che mangiamo e quello che respiriamo va da sé che la domanda è cosa mangiamo e cosa respiriamo ma effettivamente quello che mangiamo e respiriamo viene assimilato arriva alle nostre cellule attiva i mitocondri basti pensare alla carenza di ossigeno se c'è una carenza di ossigeno ma abbiamo dei problemi no carenza di ossigeno acidosi stress adattivo infiammazione ma anche in iperossia abbiamo un problema quindi al di là del giusto apporto di ossigeno comunque se c'è una disfunzione mitocondriale questo ci porta a un problema legato alla produzione di energia e voi pensate quanto questo è importante da riconoscere al momento nell'approccio clinico integrato sia per la nutrizione per la clinica per il medico per un professionista quanto è importante conoscere effettivamente la funzionalità a livello mitocondriale quanto è importante riconoscere l'impatto ambientale che ha sulla membrana cellulare sulla cellula sui mitocondri basti pensare ai danni da campi elettromagnetici ma chi effettivamente tiene in considerazione il fatto che un campo elettromagnetico spesso può danneggiare i mitocondri il dna mitocondriare la flora intestinale ormai gli studi sono importanti ce ne sono tanti che stanno dimostrando basta pensare all'ossigeno spesso dico provano prova a smettere di respirare per qualche minuto non ce la puoi fare senza ossigeno non ce la ebbene questo importante supporto che all'ossigeno viene preso in questa relazione solo quando siamo infiniti anche questo deve essere riconosciuto nel mondo medico scientifico è vero che noi parliamo di stile di vita parliamo di ambiente poco parliamo di ambiente in un approccio clinico integrale dove vivi dove lavori dove dormi basti pensare a certe insomma certi studi fatti nei luoghi di lavoro l'impatto che ha il luogo di lavoro e la salute delle persone basti pensare a quanto sì lo stile di vita lo teniamo effettivamente in considerazione conosciamo effettivamente quali siano i fattori che possono danneggiare le cellule se le patologie iniziano a livello cellulare siamo in grado di consigliare sicuramente un stile di vita sano ma possiamo intervenire su un miglioramento dell'ambiente in cui una persona vive lavora dorme questo è molto più difficile pensate a quanto questo possa condizionare quando noi parliamo di nutrizione poi lo studiate nutrizionisti lo studiano in medici un po meno magari nella nell'università però va da sé che questo in biologia gastroenterologia medicina interna i termini nutrizione alimentazione riflettono aspetti differenti con implicazioni cliniche terapeutiche biochimiche distanti però in scienza della nutrizione si usa tutte e due gli aspetti non nutrizione alimentazione è una delle cose più interessanti e sapere quello che ci dice ministra la sanità rispetto ai nutrienti basti pensare al fabbisogno di essenzio giornaliero di vitamine di minerali e ancora qui si parla di apporto minimo di vitamine minerali con la quantità di assunzione giornaliera indicata nell'etichetta ma è anche la l'assunzione giornaliera che dovrebbe esserci in un normale stile di vita ma chi è che è sicuro che in quel giorno ha la possibilità di mangiare quei nutrienti quelle vitamine la società italiana di nutrizione umana nel 2014 ci ha dato questi riferimenti ma è specifica è individuale e se questo è vero se io faccio un esame del sangue visto che questo è il fabbisogno giornaliero come faccio a sapere quanto ne ho consumato se ne ho abbastanza se è entrata nella cellula perché spesso nel sangue ma il sangue non è quello che è nei tessuti non è proprio così spesso non entra le vitamine non entrano in cellula o magari abbiamo da un punto di vista anche come vi ho presentato prima una carenza di ossigeno un problema a livello mitocondriale oggi sappiamo che i nutrienti agiscono come molecole di segnale quali sono queste molecole in quello specifico individuo in quella specifica esigenza in quel specifico supporto in quel problema specifico di quella persona e basti pensare al ritmo sonoveglia mica tutti hanno lo stesso ritmo sonoveglia oppure riposano in maniera adeguata non hanno un riposo adeguato basti pensare all'impatto ambientale se vi chiedo quando è stata l'ultima volta che avete sentito parlare inquinamento di vabbè adesso in questi ultimi sette otto giorni c'è una campagna ma se l'inquinamento è un se l'inquinamento è un grosso problema e noi dovremmo incominciare a capire cosa fare risolvere i problemi legati all'inquinamento cosa stiamo facendo effettivamente per risolvere questi problemi queste sono le domande che io faccio sempre cosa stiamo facendo pensate che l'impatto ambientale a rischio sanitario si par ormai di 400 mila nuovi casi di tumore e 180 mila morti premature a causa del cancro concentrazione dei territori soggetti in ambienti che vivono persone che vivono ambienti più inquinati quindi un'allarme sociale importante questo non è un articolo recentissimo penso che noi possiamo paragonare la nostra vita a alla vita dei pesci in un acquario voi pensate come vivono questi pesci noi non ci vogliamo ci mettiamo l'ossigeno se non muoiono ci mettiamo il cibo adatto ai pesci però spesso andiamo al supermercato a acquistare del cibo incompatibile con la nostra vita il problema che questo cibo questo cibo lo diamo ai bambini lo diamo magari alle donne in gravidanza alle donne prima del concepimento ai genitori prima del concepimento e viviamo in un ambiente sempre più inquinato dove a farne le spese sicuramente sono le cellule che vivono la matrice cellulare e questo danno a livello membrana cellulare basti pensare a questo ambiente che ripeto dove viviamo dormiamo lavoriamo troppo è questo allora se l'epigenetica condiziona la salute di intere generazioni cosa stiamo facendo per evitare che le influenze epigenetiche i fattori epigenetici danneggino le cellule della qualità della vita e la salute cosa stiamo facendo parliamo sempre di medicina funzionale medicina predittiva preventiva partecipativa parliamo effettivamente del fatto che gli andrologi dicono che per risolvere il problema di inquinamento dobbiamo congelare il liquido seminato io penso che questo assolutamente assurdo come soluzione eppure noi sappiamo benissimo che siamo oltre 25 mila geni esistono più di 150 mila proteine è giusto parlare di dna ma sappiamo che il 2 il 10 per cento è l'altro 90 per cento che parlavamo di come dna spazzatura e questo abbiamo oggi una chiara consapevolezza che questa è l'epigenetica della nostra vita il software della nostra vita la possibilità che noi abbiamo di riprogrammare o no le nostre cellule infatti il dna non è il tuo destino è una vera ripropria propria rivoluzione il fatto tutte le scelte che farai prima e durante la gravidanza condizzeranno la salute dei tuoi figli e poi attenzione all'infiammazione allora ecco l'epigenetica che conoscete molto bene però spesso troppo spesso ripeto noi abbiamo un concetto della metabolomica dell'epigenetica cioè il residuo di quelli che sono i fattori dell'epigenetica che influiscono la salute delle cellule e allora cosa stiamo facendo oggi in un approccio clinico integrato per capire effettivamente cosa possiamo fare il romedellamento della cromatina no quando parliamo di epigenetica la riprogrammazione fisiologica che avviene nelle cellule senza modificare il dna ma se questo è vero e se l'associazione italiana ricerca sul cancro ci dice attenzione l'epigenetica studia come l'età e l'esposizione fattori ambientali tra cui agenti fisici e chimici dieta attività fisica possono modificare l'espressione allora noi dobbiamo intervenire dobbiamo non aspettare i danni e dimostrare un'altra volta che l'inquinamento o la dieta sbagliata o le carenze nutrizionali hanno creato un danno al micro rna e allora l'imprinting noi lì a questo è scientifico dobbiamo aspettare dobbiamo prevenire il danno evitare che questo venga poi passato questa è la mia visione poi mi posso sbagliare alla fine se questa è l'epigenetica dobbiamo fare vera progettazione dobbiamo incominciare a prendere in considerazione tutti gli aspetti che condizionano la salute hardware software come dicevo prima quindi lavorare su tutti i fattori e gli indicatori epigenetici ecco questo è la nostra sfida quella che lanciamo proprio di mappare questi fattori antiossidanti interferenze da campi elettromagnetici le sfide ambientali radiazioni sostanze chimiche e incominciare a capire cosa serve alle cellule cosa danneggia la cellula poi la diagnosi fa il medico i suggerimenti li dà il professionista ma quanto può essere utile avere un'informazione del genere capire qual è magari lo stato emozionale lo stress se c'è un sovraccarico di questi fenomeni un accumulo nel ritmo sonno veglia un accumulo nello stile di vita un miglioramento e accompagnamento alla vecchiaia capire quali sono le carenze specifiche che possono essere utili a scopo predittivo e preventivo non quando è troppo tardi sappiamo quanto come abbiamo visto prima siano fondamentali certi nutrienti ma cosa stiamo facendo per capire cosa serve a quella specifica persona è la vitamina b1 o la b12 è il boro o il calcio qui vado veloce quale acido grasso essenziale mi manca un omega 3 o l'omega 6 è l'omega 9 e magari c'è l'omega no la moda dell'omega 3 magari sei stress ossidativo e se sappiamo che se aumenti troppo poi la quota di omega 3 c'è un ossidazione quindi anche lì ci vuole una modulazione fisiologica di nutrienti e quali integratori basti pensare alla capacità antiossidante di un nutraceutico quale impatto abbiamo anche nel suo sistema gastrointestinale ecco questo test la tecnologia s3 ci permette di capire questo poi lo vedremo con il dottor marco stella e sapere quale impatto ambientale sta danneggiando la salute delle cellule di quella persona qual è la sensibilità di quella persona pensate veramente incominciamo a essere nell'era dell'intelligenza artificiale grazie alla tecnologia siamo connessi alcuni si connettono e fanno dei danni però sappiamo quanto effettivamente possiamo fare in maniera differente nell'aiutare queste persone a soprattutto nei bambini l'equilibrio eh nutrizionale certo ambientale psico fisico emozionale il il ruolo delle emozioni ecco pensate la tecnologia s3 ci permette di avere dei report personalizzati individuali che possono essere utilizzati a seconda della vostra professionalità dal sistema immunitario a ottimizzare le performance atletiche alla eh all'antiaging noi eh sentiamo parlare di metabolomica che è veramente importante e sappiamo quanti esami dobbiamo fare per avere un profilo ottimale di quella persona però noi dovremmo incominciare a parlare di vera prevenzione dovremmo incominciare a a conoscere i fattori di rischio i fattori che possono essere utili alla sanità della persona incominciare a capire che questi fattori se conosciuti possono veramente migliorare la vita della persona basti pensare alla riprogrammazione alla ventilazione del DNA la lunghezza dei telome quanto sia importante eh il controllo dell'omocisteina e conoscere quale fattore sta condizionando l'omocisteina sappiamo perché eh Blackboard eh scienza che allunga la vita premio Nobel della medicina ci ha proprio spiegato in maniera importante che questi fattori dallo stress cronico all'inquinamento alle carenze condizionano pesantemente la salute della persona e accorciano i telomeri già in gravidanza già nella pancia dell'omociste e già l'air c'è ancora una volta ci dice attenzione la comparsa dei tumori conta anche l'epigenetica dobbiamo aspettare che questo si trasmessa questi danni alle future generazioni la terza la quarta come ormai è scientificamente dimostrato abbiamo già 500.000 morti premature in Europa a causa dell'inquinamento stiamo sprogrammando la vita a livello fetale e guardate il fumo del di tabacco cosa sta causando a intere generazioni e cosa ha causato quando noi fumavamo nelle case nelle macchine nei ristoranti nei cinema a intere generazioni abbiamo bisogno ancora io lo metto di studi follow up 48 mesi per capire qual è il danno che stiamo facendo noi dobbiamo fare presto dobbiamo fare prevenzione dobbiamo unire le forze per evitare dico sempre la sofferenza e la strage dell'inquinamento dobbiamo incominciare a lavorare sulla salute delle cellule capire l'alimentazione sì ma vedete già condizioniamo la salute a livello embrionato e questo lo studio è il documento ufficiale del senato della repubblica che ce lo dice nel 2018 potete scaricarlo 193 pagine che ci dice anche che l'epigenetica è sprogrammata nella pancia della quindi e l'obesità viene programmato nella pace già a livello fetale e qui aumento delle malattie soprattutto nei bambini latero scala di una malattia sicuramente epigenetica anche in età peridiatrica è il giornale della scala di che ce lo sta dicendo dobbiamo lavorare sul sistema immunitario ma sui fattori che condizionano il sistema immunitario è chiaro che conosciamo tutta una serie di inquinanti adesso vado molto veloce ma chi è che sa che l'inquinamento di una sigaretta inquina 15 volte più di un auto diesel questo ce lo dice il professor boffi un istituto tumori di milano pure si continua a fumare adesso poi tutti svapano 140 mila sostanze chimiche aumento dei tumori dei fattori di rischio di aumento delle infertilità siamo al 60 per cento i danni da campi elettromagnetici vado veloce perché abbiamo perso un po di tempo questa prima per qualche disgraziato no imbecille scusate l'aumento dell'autismo siamo a 1 su 36 in america 1 su 36 1 su 36 e poi poi tutto il discorso è legato all'impatto da questa tecnologia che distrugge mitocondri danneggia mitocondri membrana cellulare l'acqua del nostro corpo aumenta lo stress nitrossativo ossidativo e allora ancora una volta dico sempre cosa vogliamo fare vaccinare il pesce o pulire la vasca ogni riferimento è puramente calvoato io penso che dovremmo rincominciare a far ripartire il motore mitocondriale perché il dna mitocondriale che decide dovremmo incominciare a parlare di influenza a livello anche del microbiota legato ai mitocondri alla salute delle nostre cellule tutte le malattie sono di origine mitocondriale basti pensare alla carenza di ossigeno alle varie forme di ipossia noi da sempre proviamo self food che ha tutti questi lavori scientifici non è la serata però è qui che dobbiamo lavorare questo è un libro importante parla di tutte le ricerche scientifiche pubblicate che abbiamo fatto e cinque università perché dovremmo incominciare a unire le forze quindi evitare il problema si personalizzare prevenire predittiva sicuramente partecipativa però cominciamo a creare cultura a spiegare che oggi possiamo utilizzare un report per migliorare la qualità della vita di queste persone la risonanza magnetica nucleare già è un esempio di medicina importante che è una analisi di un test che può essere molto utile pure pochi sanno che questa è medicina quantistica l'ecocardiogramma e medicina quantistica e biofisica l'elettrocardiogramma lo stesso anche questi agenti infernali che utilizziamo usano la quantistica la biofisica ma anche lo spettro di una sostanza e la possiamo utilizzare lo spettometro perché perché analizza la vibrazione nella frequenza la lunghezza d'onda di quella sostanza di quella materia come ci insegna l'università di paudova la professoressa ferrari grazie a questo la fisica quantistica è come ci insegna nella ravizza questa fisico nucleare ci dice la teoria fisica descrive il comportamento della materia della radiazione e tutte le loro interazioni vista sia come fenomeni ondulatori sia come fenomeni particellari quindi onda particella differenza dalla fisica classica basata sulle teorie di che vede per esempio la luce solo come un'onda e l'elettrone solo come particella quindi siamo molto più avanti dobbiamo prendere in considerazione questo senza buttare via nulla ma unire le forze tra biofisica biochimica e ma soprattutto clinica ed ecco la tecnologia sdra un dispositivo unico al mondo che in grado proprio di mappare grazie a questo biomarker unico al mondo il bulbo del capello pensate che il capello biomarker mai molto conosciuto viene utilizzato per l'esposoma delle persone per capire se una persona quindi esposta a sostanze chimiche dannose viene utilizzato per il fa uso di sostanze soddisfacenti viene è l'antenna tra micro e macro ambiente nostri tessuti e quindi occupa un ruolo di controllo nella formazione differenziazione e morfogenesi delle cellule staminali del follicolo quindi è la mappatura epigenetica del capello dei fattori epigenetici è qualcosa di veramente utile al professionista ci permette proprio di captare tutte le frequenze relative a quelle sostanze a quella situazione della persona nasa utilizza il capello per la salute degli astronauti viene utilizzato addirittura il bulbo per i disturbi psichiatrici quindi è un biomarker e oggi ci permette di mappare oltre 800 fattori chiari darci un'indicazione ottimale poi lo vedremo tra poco e ci permette come dice la fda di promuovere buona salute promuovere un stile di vita e motivare proprio incoraggiare il raggiungimento del benessere dei vostri pazienti o clienti è un report dei fattori epigenetici permettetemi anche se abbiamo iniziato con qualche problemino di ringraziarvi appunto di questa preziosa partecipazione e mentre concludo facendovi vedere che viene utilizzato in moltissimi centri importanti tra cui centro medico del real madrid viene utilizzato da moltissimi professionisti da farmacie da atleti d'elite a livello mondiale questo test da molti anni ma abbiamo una scuola di alta formazione è iniziata qualche mese fa la scuola comunque sempre aperta e registrato quindi anche iscrivendoci adesso uno può recuperare le lezioni passate il prossimo sarà al 16 a 7 marzo come weekend e poi il 13 14 aprile poi abbiamo un weekend in più abbiamo aggiunto a maggio permettetemi di lasciarvi con questo messaggio che non solo la vita senza amore non ha senso ma anche senza pazienza è dura andare avanti che per quello che è successo poco fa vi assicuro che insomma mi ha veramente spiazzato quindi grazie di cuore per l'ascolto e e passo la parola a marcus tenton e a debora pulini per per il proseguimento della serata grazie a tutti